Un regalo di Emiliano Bonazzoli spiana la strada di un Inter tutta sostanza, senza fronzoli, che dello stato di necessità, 12 indisponibili, fa con successo virtù. Non inganni il 2-0 finale, la vittoria della squadra di Zaccheroni è stata sofferta fino all'ultimo. La regina ha giocato con generosità, ma ha evidenziato una preoccupante mancanza di lucidità sottoporta. Bonazzoli è l'ombra del giocatore che fu determinante lo scorso anno con la maglia Maranto. Cozza prova ad illuminare, ma non è al meglio della condizione. Rimane Di Michele, che non si sottrae alla responsabilità di dare sostanza all'attacco calabrese. Lotta regala assist e prova anche ad andare al tiro, ma non è giornata. Nella squadra di Zaccheroni, Martins e Adriano non brillano. Recoba si sacrifica, è più regista che ispiratore della manovra d'attacco, ma l'oruguaiano riesce comunque a mettere il suo sigillo sull'incontro. Dal suo corner, la clamorosa autorete di Bonazzoli al 41esimo del primo tempo. Nella ripresa, i calabresi si gettano in avanti alla ricerca del pareggio. Ma l'Inter regge l'urto reggino con una difesa arcigna, che quando Toldo non ci arriva evita il suo portiere di capitolare con Gamarrà nel finale di gara. Con i padroni di casa sbilanciati arriva il raddoppio ospite, questa volta ad opera di Adriano che ritorna al gol in campionato dopo un digiuno di quasi due mesi. Inter in piena rincorsa al quarto posto, che significa Champions League. Regina che può consolarsi con i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza.